Eh qua giù fa freddo cazzo Ragazzi oggi sono in bicicletta con un tempo da lupi Sono nel versante ad ombra di un poggio Quindi il sole non c'è, in più la nebbia non permette al sole di scaldare E mi sono anche dovuto fermare perché avevo le punta delle dita e delle mani veramente congelate Non sentivo più niente Comunque oggi voglio parlarvi di un tipo di allenamento molto particolare Che tutti i ciclisti prima o poi una volta nella vita fanno Sto parlando delle salite forza resistente Questo tipo di allenamento è stato concepito da Aldo Sassi nel 1983 Aldo Sassi in quegli anni stava allenando Francesco Moser per battere il record dell'ora E ha concepito questo allenamento innovativo per l'epoca Ma che poi si è rivelato un allenamento adottato da tutti i ciclisti Da tutti i professionisti di tutto il mondo che fanno ciclismo Con questo tipo di allenamento non si sviluppa la forza massima Perché in queste salite, in queste ripetute in salita La cui pendenza non deve mai superare l'8% Deve essere una pendenza costante Si applica una forza su pedali che non supera mai il 20% della potenzialità massima del quadricipite Quindi ecco perché non si chiamano salite forza massima Ma si chiamano salite forza resistente Si sviluppa cioè la forza resistente Quella forza che servirà ai passisti e ai cronomen Per spingere grandi rapporti Lunghi rapporti, rapporti pesanti In piano per molte decine di chilometri Come si svolgono questi tipi di ripetute? Beh si va in una salita come ho detto dell'8% a pendenza costante Si sale spingendo il 56 davanti E i professionisti lo fanno col 13 o il 14 dietro Noi possiamo fare tranquillamente col 19 Si affronta questa salita all'8% massimo per 5 minuti Dopodiché ci si riposa per 2-3 minuti Con un riposo attivo o con un riposo passivo Attivo vuol dire che si pedala sciogliendosi Riposo passivo invece vuol dire che ci fermiamo Ripetiamo tutto questo per un massimo di 10 volte Dopo aver fatto ovviamente un buon riscaldamento E finiamo la nostra sessione allenante Con 30 minuti in piano A cadenza di pedalata molto alta Vicino ai 100 Questa fase finale serve per trasportare il lavoro fatto in salita In piano Perché come dicevo Il lavoro fatto in salita servirà poi in strada Per spingere questi rapporti molto intensi Quando si sviluppa Quando si pratica questo tipo di allenamento Bello facciamo in inverno A fine inverno In la fine dell'inverno All'inizio della primavera Quando il ciclista ha nelle gambe Qualche centinaia di chilometri Se non addirittura un migliaio di chilometri Ok ragazzi Quindi non è ancora il momento di farlo Perché siamo in piano inverno Diciamo che verso marzo È il momento ideale Per iniziare a fare le prime salite Forza resistente Ok ragazzi A questo punto Io torno a casa Mi scaldo Perché fa veramente freddo Noi ci vediamo al prossimo video Buon allenamento E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.